Assemblea regionale siciliana a Portopallo di Capopassero, erosione costiera, in sicurezza il canalazzo. La mareggiata del marzo 2015 a Portopallo di Capopassero nel Seracusano se la ricordano ancora e i danni che sono tuttora ben visibili sul litorale di certo non aiutano a dimenticarla. La buona notizia è che la struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal Presidente della regione siciliana Nello Musmeci ha sbloccato la situazione che peraltro in questi cinque anni è notevolmente peggiorata. Gli uffici diretti da Maurizio Croce hanno finanziato infatti la progettazione esecutiva per il consolidamento nel quartiere Canalazzo della sede stradale lungo il tratto di costa compreso tra le vie Lucio Tasca e Nunzio Costa. Può quindi partire da oggi a ragionveduta il countdown per un ripristino della normalità in un sito dal grande valore turistico. I disagi in questi anni non sono stati leggeri se solo si considera che via Tasca è ancora oggi chiusa al transito e che la via Costa è stata sì riaperta ma con l'eccezione dell'ultimo pezzo che porta al mare. A ciò si deve aggiungere che in quest'area in pieno centro storico si trovano numerosi edifici residenziali e attività commerciali oltre al collettore fognario di acque miste con un rischio non trascurabile di inquinamento ambientale in caso di rottura delle tubazioni. Il progetto che mira a evitare il rischio di ulteriori crolli con coinvolgimento della carreggiata stradale consiste nella realizzazione di una paratia di 53 pali su doppia fila con cordolo e muro in testa. Si procederà inoltre con la riprofilatura del versante con massi ciclopici di natura litologica compatibile con le caratteristiche geologiche locali. Infine verrà effettuato il convogliamento delle acque piovane e di ruscellamento superficiale attraverso un canale di raccolta da agganciare a una tubazione sotterranea esistente ma in disuso che passa sotto la via Costa.